Io penso sinceramente che non abbiano ancora ben chiaro che il problema è la poca chiarezza. Come aver passato metaforicamente si intende un periodo di guerra senza aver potuto sparare nemmeno un colpo. Questo è solo un tentativo di fare il quadro del periodo passato da molti operatori, titolari, gestori, dipendenti, appartenenti a tutte quelle attività ed esercizi legate alla somministrazione di prodotti alimentari e per provare ad intervenire per sollevare questa complicata situazione economica è arrivato un nuovo provvedimento deliberato dalla giunta di Palazzo Vecchio che dovrà passare ancora per il Consiglio e che al netto di clamorosi imprevisti entrerà in vigore dal 1 giugno fino al 30 settembre. Tavolini, non de orse, sul suolo pubblico per combattere, si fa per dire, le misure di distanziamento sociale, più spazio all'aperto per guadagnare in parte quello perso dalle restrizioni. Questo l'obiettivo della strategica manovra. In due giorni c'erano le direttive, ci stiamo organizzando per aprire per la fine del mese. Speriamo di sopravvivere, come disse quello, perché ora non si sa. Un passo positivo, senz'altro, che inoltre va ad aggiungersi alle disposizioni del provvedimento governativo che ha zerato il canone per l'occupazione del suolo pubblico fino al mese di ottobre, anche se per molti dei diretti interessati ancora si dovrà lavorare parecchio, in tal senso con il possibile rischio di un effetto sagra che potrebbe anche rivelarsi dannoso. Diciamo noi abbiamo lavoro solo di preventivi tra videoscanner, tappetini, gel, io penso a cosa come se andrà intorno alle 400 ore il giorno di spese, anche perché per la sanificazione dei bagni continua, è grande come ambiente. Questo in effetti non l'abbiamo ancora aperto perché quando si apre, se non lavora, conviene non aprirlo. Se di fronte al locale, posizionato il tavolino, resta uno spazio di distanza di un metro, ci si trova in un'area pedonale oppure ci sono spazi di sosta auto, si potrà inviare la richiesta per ottenere 12 metri lineari di marciapiede oppure uno spazio equivalente a due stalli di sosta. Se l'esercizio, munito di Deor, si trova all'interno del centro storico fiorentino, potrà richiedere il 25% di spazio in più rispetto ai 12 metri citati prima, se fuori invece del 50%. Al di là dei tavolini, lavorare, non lavorare, questo sarà un problema successivo che dovremo affrontare perché se soldi non ci sono, la gente a mangiare fuori. Penso sia più facile, e non me ne vogliono parrucchieri, e ho da andarci anch'io, quindi spendere 30 euro per farsi capelli che venire una sera a cena perché l'aspetto e la cura personale è una cosa fondamentale.